Oggi direi bellissima giornata, meglio di così non potevo andare, è la prima vittoria nel cross quindi è una soddisfazione perché non ho mai vinto, arrivavo sempre un po' dietro, facevo un po' fatica oggi mi sentivo bene, la pista era bella, probabilmente una serie di situazioni mi hanno portato ad andare bene, spero che la prossima si possa ripetere La prima è andata bene, sono partito più o meno quarto o quinto, c'è stata un po' di bagarre all'inizio però nel primo giro sono riuscito per una serie di eventi anche lì passare, ho spinto tanto, ho preso giusto 6-7 secondi di vantaggio poi ho cercato di mantenere la distanza venendo il mio avversario La seconda è stata un po' più difficile perché sono partito un po' peggio, quindi ho dovuto tribulare qualche giro in più però alla fine è andata bene anche questa, sono riuscito a passare e prendere sempre quei 5-6 secondi di vantaggio che incredibile mi hanno portato alla prima vittoria Grazie a tutti